Un assieco pazzesco dal cuore infinito rischia di fare il gran colpo a Siena da dove c'è battuta per 15 a 13 solo al tiebreak e di nuovo senza cantagalli dal quarto set in poi. Da un gruppo così straordinario è lecito attendersi un miracolo da gara 2 di questi quarti di playoff domani sera alle 19 ortona. In A3 è ritrovato un superpinito che travolge un pur insidioso Aversa che nelle ultime 11 gare ne aveva vinte ben 10 compresa quella proprio contro l'Abba pursa in terra campana dove si andrà per gara 2 degli ottavi domenica 18 alle 17. Con queste premesse c'è solo da avere fiducia totale, felice e bravo Rosichini. Abbiamo vinto il primo round di una serie che però secondo me sarà estremamente lunga e sofferta perché Aversa è veramente una buona squadra che gioca un'ottima palla a volo. In B maschile con recupero perso al tiebreak ad Ancona l'Alba Adriatica passa alla seconda fase. In B1 femminile il gran derby a pannaggio secondo tradizione del forte altino che liquida 3 a 0 le cugine teatine e sale al primo posto prezioso per la seconda fase. Le neroverdi si affidano agli altri 5 recuperi da effettuare, i due allenatori a fine gara. Noi ci giochiamo in guarda con Cisterna, è andata e ritorno perché è la squadra che abbiamo lì davanti, dobbiamo andare a Trevi. Poi mercoledì adesso andiamo a Casal dei Pazzi con un altro squadrone e vediamo cosa riusciamo a fare. Oggi abbiamo fatto un passo indietro però te l'ho detto anche queste scortanze qua è un continuo, è tutto l'anno così, va bene a me lo stesso. Sono soddisfazioni perché le ragazze da quando sono arrivato io hanno lavorato tantissimo e si meritavano queste soddisfazioni di prendersi un po' di rivincite. Sono contento per come è andata la partita, contento per i tre punti, da quello che mi hanno detto contento per il primo posto in classifica e adesso ci aspetta un mese di duro lavoro. Grazie.